Il primo anno di amministrazione di Colle al Metauro, questo comune che è nato lo scorso anno, ma di fatto vita piena annuale ce l'ha avuta nel 2018. Noi abbiamo messo a bilancio a inizio di questo anno tantissime opere pubbliche, diversi lavori sono già stati effettuati, alcuni sono in corso, come la palestra di Montemaggiore, l'illuminazione pubblica serongarina, sono in corso in questo momento, ma soprattutto siamo riusciti a pubblicare le gare d'appalto, quindi ad impegnare effettivamente tutte le somme che avevamo previsto a bilancio per il 2018 per una serie di opere, per le quali quindi sono molto soddisfatto perché tutti gli impegni che ci eravamo presi a inizio di quest'anno, concludendo l'anno, noi li portiamo a termine, non tanto nei lavori effettuati, ma perlomeno nell'aver predisposto tutte le gare d'appalto quindi vuol dire vedere tutti i lavori nei prossimi mesi, grosso modo il periodo primaverile. Mi riferisco ai due cimiteri, quello di Montemaggiore e quello di Serongarina, per i quali sono previsti gli ampliamenti, un piano di asfaltature per 500.000 euro e soprattutto, la cosa la quale tengo molto, stamattina abbiamo invece pubblicato la gara d'appalto per la scuola elementare Dezzi di Saltara, perché intanto significa riportare a Saltara quella che era la sua scuola elementare storica, ma soprattutto significa anche liberare la sede della delegazione comunale a Calcinelli, che oggi ospita questa scuola, che era stata sgomberata dopo il terremoto di tre anni fa, nella quale sarà poi riportata la sede unica del comune di Colle al Metauro. Poi domani c'è un consiglio comunale, l'ultimo di quest'anno, nel quale sarà approvato un protocollo di intesa con la provincia per la rotatoria all'uscita della superstrada di Calcinelli, l'intersezione con via di Ponte Metauro, pericolosissima. Noi l'abbiamo ripresa, nuovo accordo con la provincia, quindi approviamo il protocollo di intesa definitivo, dove noi impegniamo i nostri 150.000 euro come comune. La provincia è chiamata, ma c'è già un impegno su questo, a portare i suoi 150.000. Noi diventeremo proprietari dell'area dell'ex distributore di benzina, lì proprio all'incrocio dove dovrà sorgere la rotatoria, bonificheremo l'area togliendo le cisterne del vecchio distributore, eccetera, e poi tutto quanto sarà passato alla provincia che indirà la gara d'appalto. Quindi questa è una cosa che ugualmente vedrà luce nel prossimo anno, ma il protocollo di intesa lo approveremo già entro quest'anno, nell'ultimo consiglio comunale. Un ringraziamento lo faccio a tutti i dipendenti comunali, a tutti i collaboratori, che hanno portato avanti insieme a noi ovviamente queste istanze, e approfitto anche, visto che siamo a fine anno, augurare un buon 2019 a tutti i miei concittadini.